L'ultimo indizio Uomini e donne, Ludovica e Beatrice Valli ai ferri corti. L'ultimo indizio Uomini e donne, quali sono i rapporti tra Ludovica Valli e la sorella Beatrice? I due hanno davvero litigato? Gli ultimi sviluppi. A chi segue da tanto tempo uomini e donne probabilmente non sarà nuovo questo argomento. Il rapporto tra Ludovica Valli e la sorella Beatrice, infatti, ha spesso attirato l'attenzione dei più curiosi. Questi ultimi, puntualmente, hanno sempre chiesto spiegazioni alle dirette interessate. Quello che non ha mai convinto molto i fan delle sorelle Valli, in particolare, è l'apparente distacco con cui le due spesso si sono tratte sui social. Pochissime le volte infatti in cui si sono mostrate insieme e altrettanto rare quelle in cui hanno manifestato apertamente il loro affetto. Semplice riservatezza secondo alcuni anche se, stando ai commenti ricevuti da queste ultime, non tutti la pensano così. Ad un'altra sua sorella, invece, Ludovica sarebbe molto legata, tanto è vero che su Instagram molti sono i post e i messaggi d'affetto a lei dedicati. L'ultima foto condivisa con i suoi followers, infatti, ritrae Lavalli intenta a baciare il pancione di quest'ultima, in attesa di una bambina, e, tra i tanti commenti di auguri, non sono mancati anche quelli in cui si faceva riferimento a Beatrice. Bellissima, ma quando Beatrice aspettava bianca non te la sei proprio filata scrive un utente. Si faceva la foto con la sua pancia lei da sola o con il suo uomo e ma su altri profili risponde Ludovica ognuno alle proprie idee e pensieri di vita. Finitela di giudicare o parlare soprattutto di rapporti così delicati. La stessa poi successivamente ha aggiunto, Entrambe sono la mia vita, e virgola ma si hanno pensieri e idee diverse e massimo rispetto su qualsiasi loro decisione. Sorelle Valli, quando a parlare del loro rapporto era stata Beatrice. Qualche mese fa a dire la propria sul rapporto che lega lei alla sorella Ludovica era stata proprio Beatrice Valli. Contrario della sorella, però, Beatrice era stata più categorica. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, infatti, non aveva parlato di rapporti delicati, tutt'altro, aveva smentito categoricamente ogni tipo di voce riguardante un loro possibile litigio. La sorella sarebbe molto più vicina alla sorella maggiore semplicemente perché entrambe abitano vicino e, ad onor del vero, oggi questa versione è stata confermata anche da Ludovica. La sorella, 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 la